Ciao, ciao amici, bentornati, come state? Spero tutto bene. Oggi voglio fare un discorso con voi partendo da due presupposti, da due notizie o comunque indiscrezioni che sono venute fuori nelle ultime ore. E poi oggi pomeriggio mi piacerebbe invece fare insieme una live su Twitch di domande e risposte, una Q&A come ai vecchi tempi, dato che adesso abbiamo qualche giorno di riposo prima della prossima partita di Serie A e possiamo un attimino rilassarci e anche discutere insieme un po' più liberamente, quindi magari ci vediamo nel pomeriggio su Twitch e poi ricaricherò il contenuto qui su YouTube soltanto per la parte di domande e risposte. Allora, McKennie Leeds, sembra che si vada avanti, potrebbe concludersi effettivamente questa trattativa. Io sono sincero, sono un po' sorpreso in realtà, nel senso che non mi aspettavo che McKennie potesse accettare Leeds, non è ancora accaduto, non abbiamo ancora ufficialità, non abbiamo ancora conferme, però sembra che le cose si stiano muovendo e che il giocatore possa essere più aperto, più disposto a trasferirsi in Premier League in questa squadra, in questa formazione. Quindi vediamo che cosa accade, teniamo monitorato perché se poi McKennie uscirà dalla Juventus bisogna capire se ci saranno ingressi, se ci saranno acquisti. Ora, non aspettatevi chissà che cosa perché siamo sempre lì, bene o male ci aspettiamo eventualmente un giocatore sull'esterno di destra, magari nemmeno un nome così altalenante, c'è sempre il nome di Karsdorp, che sembra un po' più defilato in realtà rispetto ai mesi scorsi, c'è sempre il nome di Mele, vediamo se uno dei due potrà essere l'indiziato numero uno per arrivare effettivamente alla Juventus, ma soprattutto vedremo se McKennie uscirà oppure no. Con Vlaovic e Pogba pronti al rientro addirittura già contro il Monza, ecco che si libera un altro posto a centrocampo, dato che potrebbe partire McKennie e quel posto potrebbe essere preso da Pogba all'interno delle rotazioni con i vari Fagioli, Locatelli, Miretti, Rabiot, Paredes e chi più ne metta. Quindi questa potrebbe essere un'ipotesi di Juventus 2.0 che vedremo nella seconda parte di stagione, ora l'andata si è conclusa, in questa prima parte abbiamo visto di tutto e di più, da noi inizioni ai gironi di Champions, da una contestazione forte nei confronti allenatore, a una dimissione della dirigenza, a 15 punti di penalizzazione, siamo soltanto a metà stagione, quindi prepariamoci che la seconda parte potrebbe essere davvero ancora più frizzante, teniamo sott'occhio quello che sarà il ricorso, quindi vedremo se questi 15 punti saranno tolti o confermati, ma soprattutto torno a dire, perché quella è la mia preoccupazione, la mia paura più grande, diamo un'occhiata anche a quello che salterà fuori da tutto il discorso legato agli stipendi. Sono abbastanza preoccupato, ve l'ho già detto tante volte, vediamo che cosa accade. Un'altra indiscrezione ieri, venuta fuori da Gazzetta, è la seguente. Massimiliano Allegri, scadenza contratto giugno 2025, potrebbe rinnovare per altre due stagioni fino al 2027 ed essere l'uomo Juve per la ricostruzione e per la rinascita, vero e proprio simbolo del Juventus. Parto dal presupposto, parto col dire che sarai fortemente contrariato a una cosa di questo tipo, un rinnovo di questo tipo, proprio perché è troppo, sono troppi anni e tu non puoi sapere che cosa accadrà da qui al 2027. Siamo nel 2023 in questo momento, non sai nemmeno cosa accadrà dal 2023 al 2024, quindi sicuramente non puoi programmare in questo momento una Juventus dal 2023 al 2027. Fermo restando che Allegri ha già altre due anni e mezzo di contratto, perché ha due stagioni complete più questa, era un contratto di quattro anni, ha fatto un e mezzo, quindi ce ne sono ancora due e mezzo. E soprattutto, sottolineando come anche con il ritorno di Allegri non ci siano stati effettivamente dei risultati soddisfacenti a livello sportivo. Io mi sto concentrando in questo momento ad analizzare solo questo. Sembra che sia stato proprio Elkan a chiedere a Massimiliano Allegri di diventare simbolo della Juve. Ora, vi ho detto che non sarei d'accordo, ma soprattutto vi dico che non credo che sarà così. Quindi questa indiscrezione di Gazzetta mi sembra decisamente folle. E vi spiego anche il perché. Voglio narrarvi un po' quella che secondo me sarà l'evoluzione della Juventus. So che è impossibile, l'ho appena detto io stesso, però ognuno di noi ha delle sensazioni e vi dico secondo me come andrà a finire. Non sotto il punto di vista piano giuridico, perché quello non mi compete. Io non sono formato per discutere queste cose e quindi posso soltanto leggere, informarmi e aspettare le motivazioni della sentenza e aspettare l'esito del ricorso. Non posso farci altro e credo che sia necessario anche un bagno umiltà da parte di tutti noi. Fare un passo indietro rispetto a delle cieche convinzioni. No, atteniamoci a quelli che sono i fatti. Poi se sono fatti tra virgolette inconsistenti o inventati e quindi se la Juventus è stata punita ingiustamente il ricorso ci toglierà questi punti. Se questo ricorso invece verrà respinto è perché probabilmente Juventus ha effettivamente fatto degli errori che si sono trasformati non solo in errori ma anche in qualcosa di più e quindi punibili con dei punti di penalizzazione. Io ci tengo sempre sottolineare questa cosa perché in questo momento sto vedendo un po' troppa isteria di massa. Io capisco la situazione, sono il primo a non essere soddisfatto, però non è che se la Juventus è allora no, si può. No, vediamo cosa succede, vediamo cosa ne viene fuori. Magari all'interno delle motivazioni della sentenza ci sono scritte delle cose sacrosante e faremo fatica anche a contestarle o magari ci saranno scritte delle stupidaggini e per gli avvocati della Juventus sarà facile come bere un bicchier d'acqua, smontare tutto e far accettare il ricorso. Quindi in questo momento io faccio anche un po' fatica a andare ancora più dentro la questione. Posso soltanto avere ovviamente la mia posizione da tifoso, la mia rabbia da tifoso, la mia indignazione per tante disparità di trattamento e questo secondo me è il punto più grande di tutta la situazione, ma per il resto andrei un attimino con calma perché veramente è giusto lasciare lavorare chi si occupa di queste cose, nel concreto il pool di avvocati della Juventus citato da Scanavino. Quindi Juventus ha tirato fuori una linea difensiva ben chiara e finita. Siamo innocenti, questa sentenza è ridicola, questa sentenza è infondata, dimostreremo che è così. Quindi io mi siedo, arrivo al fiume e aspetto che la Juventus possa completare la sua parte difensiva all'interno di tutta questa faccenda. Scusate anche per i termini, ripeto, non è affar mio, lo sapete, l'ho già detto tante volte e so che tanti di voi sono d'accordo con questa cosa. Allora, cosa succederà secondo me? Io credo che Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus 2023-2024 e vi dico questo perché dal momento esatto in cui ho letto delle dimissioni di Andrea Agnelli ho pensato Allegri o va via adesso o va via a giugno. E questo lo sapete perché il primo video che faccio sulle dimissioni del CDA e pensavo fossero delle dimissioni legate a delle ammissioni, delle assunzioni di colpa per quanto riguarda il piano sportivo degli ultimi anni, ho proprio immaginato, d'accordo, allora adesso chi andrà al posto di Agnelli valuterà anche la figura di Allegri. Figura di Allegri che in quel momento stava iniziando a risalire i consensi con qualche vittoria, ma come ricorderete anche proprio in quel periodo lì feci il video dicendo non è che quanti erano sei o sette, mi pare sette, no sei, erano sei, non è che sei vittorie consecutive in Serie A vanno a cancellare tutto quello di brutto che è stato costruito in questi primi mesi e tutto l'anno fortemente negativo dell'anno scorso, della stagione scorsa. Queste cose, queste sei partite non possono minimamente cancellarlo. Poi cosa è successo? Ci sono state altre due vittorie, tra l'altro nelle sei c'erano due bellissime vittorie secondo me come quella con Lazio e Inter, altre due vittorie risicate differenti come Udinese e Cremonese e poi la brutta sconfitta del Maradona e secondo me il bel 3-3 dello Stadium. Se devo lasciare da parte tutto l'aspetto legale, legislativo, tutto quello che si sta muovendo in questo momento intorno alla Juventus, difficilmente valuto questa stagione come positiva, difficilmente, perché metto tutto insieme, perché c'è la Champions. Di uscire i gironi di Champions non credo che sia ammissibile per la Juventus. Se devo guardare la Serie A senza la penalizzazione, il gironi d'andata la Juventus ha fatto un discreto gironi d'andata che non significa magnifico, non significa neanche disastroso, perché sarebbe intorno ai 40 punti e dico 40 perché sarebbero 40 davvero, come ha giustamente ribadito e ricordato Massimiliano Allegri anche l'altra sera ai microfoni di The Zone. Il Milan sarebbe fermo a 38 e il Napoli a 50, quindi Juventus a meno 10 dal primo posto su un Napoli che ha una proiezione di 100 punti in campionato, che è veramente mostruoso, non dimentichiamoci che il record assoluto è una singola stagione è i 102 proprio dalle Juventus di Antonio Conte, l'ultimo anno di Conte. Quindi stiamo parlando di un passo atomico per quanto riguarda il Napoli e un buon passo per quanto riguarda la Juventus che andrebbe a chiudere con una proiezione intorno agli 80 punti, il che non è male, per niente male. Ora mi immagino che la Juventus debba ragionare sull'orbita dei 60 e rotti quasi 70, oltre i 70 sarebbe qualcosa di molto apprezzato, devo dire la verità, perché dopo con i 15 ripenizzazioni andresti intorno agli 85, che è veramente un risultato un po' troppo, probabilmente un po' troppo per quelle che sono le nostre possibilità in questo momento. Se guardo il complesso della stagione non sono soddisfatto, ma soprattutto io non credo che un allenatore come Massimiliano Allegri, che è stato riportato a casa proprio da Andrea Agnelli e che ha sempre visto in Agnelli non solo un superiore, ma anche un gran supporto, non voglia andare avanti in questo processo senza quella figura che l'aveva sempre aiutato anche nei momenti più difficili e sempre sostenuto nei momenti buoni. Perché, lo dico sempre, le squadre di calcio sono composte da persone, sono aziende, società, ma sono composte da persone e ci sono tanti rapporti interpersonali. E quando viene a mancare una figura importante, come il presidente della Juventus se viene sostituito da un'altra figura, per forza di cosa l'allenatore non potrà avere le stesse vibrazioni, le stesse emozioni che aveva in precedenza. E io credo che sarà proprio Allegri a fare un passo indietro e a chiedere conferme, a chiedere valutazioni, a chiedere magari anche la recessione consensuale del contratto. Tante volte ho sentito Allegri non si dimette perché i soldi. Io non credo che per Allegri sia un problema di soldi, non credo proprio. Credo quanto più che sia un problema di quello che prova, di quello che sente. Sentiva qualcosa e ce l'ha sempre detto e ce l'ha sempre dimostrato di voler andare avanti perché è testardo, è cocciuto anche nel momento più buio. Non ha aperto alle dimissioni perché voleva dimostrare. Ma qui stiamo andando oltre il campo. È quello che vi dicevo prima, è difficile, è complicato scindere questa stagione dal campo ed extracampo. Perché se prima, soltanto basandoci sul campo, non avrei confermato Allegri, avrei esonerato Allegri in corso d'opera. Oggi, se penso all'extracampo, non posso immaginarmi che la priorità della Juventus sia ragionare su Massimiliano Allegri. Né dal punto di vista dell'uscita, né dal punto di vista del rinnovo. Perché questa in questo momento non è la priorità della Juve. Ma non l'allenatore, il fattore campo. In questo momento alla Juventus il campo, il gioco del calcio è messo in stand-by. Non perché lo vogliono fare, ma perché lo devono fare in questo momento. Perché ci sono altre preoccupazioni. giorni. E quindi io credo che Allegri arriverà a giugno e poi dirà, ragazzi, ora parliamone. Abbiamo terminato l'anno. Questo è quanto. Questo è l'output. Penalizzazione, non penalizzazione. Stagione che è andata bene, stagione che è andata male. Abbiamo fatto questo. Siamo arrivati in Champions, in Europa League, in Conference, fuori dall'Europa. Siamo retrocessi in Serie B. Ci siamo salvati. Abbiamo vinto l'Europa League. Siamo usciti con il Nant. Quello che sarà. Non abbiamo vinto niente. Abbiamo vinto la Coppa Italia. Questo è quanto. non so se voglio rimanere. Per x, y, z motivi. Queste sono ovviamente congetture. Sono illazioni mie, ragionamenti, sensazioni mie. Ma credo che Allegri in questo momento non abbia la volontà di continuare con la Juventus. Proprio perché è una concessione di Juventus differente. Uno status di Juventus differente sia da quello che ha ottenuto nel suo primo mandato la Juventus sulla sua prima avventura. Ma ha anche uno status differente da quando è tornato. Perché nel momento che torna Allegri, attacco dalla Juventus e le prime amichevoli di Allegri è Ronaldo di Bala Chiesa. E già questo dovrebbe darci un'indicazione di quanto siamo cambiati proprio a livello sportivo negli ultimi 12 più 6-18 mesi. Già questa è un'indicazione. Già questa è un'indicazione. Con Chiesa che è l'unico rimasto e si è fatto un crociato nel frattempo. Io credo che la Juventus non possa nemmeno, tra l'altro, permettersi in questo momento degli stipendi come quello di Allegri. Quindi a maggior ragione non credo che possa rinnovare a meno che non si chieda ad Allegri di rinnovare per altri due anni mantenendo la stessa cifra che guadagnerebbe in due. E allora lì mi viene da dire perché mai Allegri dovrebbe accettare questa cosa? Perché mai prendo lo stesso stipendio di due anni in quattro. Lavoro due anni gratis. E allora se prima vi dicevo non è una questione di soldi, certo, ma è una questione di principio. Non avrebbe minimamente senso. Io credo che Juventus, e ce lo sta ripetendo con forza Juventus, in questo momento debba ragionare sull'autosostenibilità. Per quello vi dico che la cessione di McKennie in questo momento, dopo due stagioni e mezzo di utilizzo del giocatore, se riusciamo a cederlo ad una cifra vicina a quella dell'acquisto, che può essere leggermente superiore o leggermente inferiore, è assolutamente qualcosa di positivo. Perché tu hai usufruito praticamente in modo gratuito di questo calciatore e poi hai preso quei soldi e li hai rinvestiti da qualche altra parte. Questo è un modo moderno in questo momento di fare calciomercato soprattutto ai livelli attuali della Serie A. Perché ieri abbiamo fatto il video sulle parole di Elkan e Elkan parla della Serie A e dice che la Juventus non è un problema, è parte della soluzione per la Serie A. Ieri vi dicevo in un reel, ragazzi, se Juventus in questi anni ha contribuito a tenere a galla tanti club di Serie A pagando soldi veri, non vi sto parlando di scambi, più sull'enze, soldi veri in diverse trattative. Ora io sarei proprio per non fare più acquisti in Serie A, per comprare soltanto giocatori da qualche giovanile a inserire nella next gen. Perché anche ieri Elkan ci ha detto una Juve competitiva e sostenibile. Agnelli, l'ultimo giorno in presidenza, ci parla di una Juve competitiva e sostenibile grazie alla next gen. La Juventus, nei bilanci, ci parla di un progetto al 2025 in cui deve autosostenersi, autofinanziarsi, ma mantenere inalterata la competitività della squadra. Il presidente Ferrero, la prima volta che va ai microfoni, dice tifosi della Juventus non preoccupatevi, non c'è un bagno di sangue, non stiamo piangendo, combatteremo per far rimanere la Juventus dove le compete e dobbiamo mantenere anche in questo momento gli stessi obiettivi che hanno sempre avuto le Juventus precedenti. Quindi essere competitivi. Allegri, nell'ultima conferenza stampa pre-Atalanta, dice c'è un rapporto di 1-4 con le squadre della Premier League. La Juventus in questo momento e la Serie A in questo momento non possono permettersi di ragionare come facevano in passato, devono pensare ad altre strade, tra cui i giovani, e Allegri dice, la partita col Monza ce n'erano 5 del vivaio titolari. Quindi è un insieme, è un insieme di cose che mi fa pensare che in questo momento Juventus deve per forza stringere i rubinetti, dare un taglio, contenersi, sia in chiave calciomercato con gli acquisti, sia in chiave stipendi. Sia in chiave stipendi. Per questo non credo al rinnovo di Rabiot. Per questo credo che Di Maria, comunque che ha già la volontà di andare, in questo momento non verrà trattenuto, non si faranno i salti mortali per rinnovarlo. Per questo credo che Allegri non verrà rinnovato. È un insieme di cose. Per questo credo che Paredes non verrà riscattato. Per questo credo che Rovella l'anno prossimo rientrerà alla base. Per questo che credo che Allegri non sarà allenatore della Juventus l'anno prossimo. Per questo che credo che la Juventus l'anno prossimo sarà allenata da un profilo alla Igor Tudor. Ho già detto nel canale di Davon, ho già spiegato sul canale di Davon le motivazioni. Magari non sarà Tudor, ma il profilo sarà quello. Allenatori emergenti, allenatori che hanno già avuto un'esperienza in Serie A o nei campionati maggiori. Tudor quest'anno comunque con l'Ilimpique Marsiglia sta facendo una buona stagione. Allenatori che hanno dimostrato quindi qualcosa. Allenatori che fanno con quello che hanno, che lavorano su determinate materie. Quindi ragazzi del settore giovanile, ragazzi che hanno già esperienze in Serie A, ragazzi magari di una volta come i vari Di Maria se deciderà di rimanere o robe del genere. Con quello che c'è si lavora e si lavora per formare i giocatori che si hanno in squadra, cederli e acquistarne altri e ripetere il loop. Ma non per arrivare a metà classifica, non per arrivare in Champions, per provare a vincere. Perché questo è l'obiettivo della Juventus, ritornare a vincere e farlo senza più essere esposti, farlo senza più dover investire, tirar fuori soldi, superare se stessi. Perché l'intercettazione che dice tutto questo ce lo siamo fatti da noi e che è stata decontestualizzata a livelli allucinanti, ma ha un grande fondo di verità. Juventus è andata a complicarsi la vita da sola. E per quello che vi dico, come si fa? Come si fa a dire che non ci sono stati errori da parte della dirigenza della Juventus? Certo che ci sono stati errori, ma i cattivi investimenti, i mali investimenti, gli errori, possono essere errori e possono essere reati. E in questo momento sembra, stiamo facendo passare tutto, come reati da parte della Juventus e come errori quelli degli altri. E c'è una grande, grandissima differenza in questo. Ed è per quello che vi dico, sediamoci, aspettiamo, guardiamo le valutazioni, vediamo che cosa ne viene fuori. Perché da errore e reati c'è differenza. Così da come vincere e non vincere, così da come non sappiamo che cosa facciamo da qui alla prossima stagione a rinnoviamo Allegri altri due anni. A me sembra un'indiscrezione folle. Non credo che possa esserci il minimo fondo di verità. E anzi, vi ho spiegato che credo che la Juventus già a partire dall'anno prossimo inizierà un ciclo differente, basato su allenatori differenti e su giocatori differenti. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate questo sotto nei commenti.